Musica Emersa da parte delle forze politiche, la disponibilità comune a procedere con un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Musica Noi crediamo che questo compito e questo obiettivo di dare e di costruire un programma di fine legislatura sia in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di rimettersi in piedi e di guardare al futuro con speranza. Musica Abbiamo ribadito che la scelta del Presidente Conte come guida del governo è per noi una scelta indiscutibile. Siccome questa non è una crisi che nasce dai caratteri e dalle simpatie e dalle antipatie ma nasce dalle risposte da dare ai cittadini, noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che chiarisca chi fa cosa e in che tempi e che tolga a tutti gli alibi. Ci sono molti elementi divisivi, l'elemento divisivo è il MES, l'elemento divisivo è il blocco delle infrastrutture, il reddito di cittadinanza, sono i banchi a rotelle, sono le scuole. Su tutti questi temi ci sono opinioni diverse. Io credo che nessuno possa pretendere di imporre agli altri le proprie idee. La delegazione socialista ha sottolineato tre punti. Il primo riguarda la condivisione nella scelta che si presume di dover fare per la formazione di un nuovo governo che sia appunto un governo di natura politica. fondato sulla maggioranza preesistente, la maggioranza che ha governato l'Italia negli ultimi mesi, allargata naturalmente a quanti volessero condividere il programma che verrà steso. La sintesi politica è molto semplice. Noi siamo per un governo politico, guidato da Giuseppe Conte, sapendo che l'alternativa netta è il governo del Presidente della Repubblica, che porti il Paese all'elezione, perché le opposizioni non hanno torto sul punto. Noi siamo per un governo politico guidato da Giuseppe Conte che riteniamo il punto di equilibrio possibile in questo finale di legislatura. Buongiorno e buona settimana cari telespettatori. Allora, allora che succede? Succede che siamo ai tempi supplementari, mettiamola così, della ricognizione del Presidente della Camera Fico, che domani riferirà al Capo dello Stato a Mattarella. Fico, abbiamo sentito le sue parole, insomma, ha fatto capire che è emersa una disponibilità da parte delle forze della maggioranza uscente ad un confronto comune, un percorso comune, insomma, che dovrà andare ovviamente a sintesi per eventualmente poi formare un nuovo governo. governo. Oggi c'è un maxitavolo, un maxitavolo tecnico, dove si parlerà di programmi, quindi di tutti i punti, anche di frizione che ci sono stati finora. Un tavolo a cui partecipano le delegazioni, ovviamente, di tutti i partiti, capigruppo ed esperti. E se si troverà un accordo, poi dovrebbe esserci un nuovo vertice, eventualmente allargato ai leader dei partiti, per concordare questo nuovo contratto di governo e per, in particolare, in un poco conto, individuare il nome del Presidente del Consiglio e le pedine del nuovo esecutivo. In campo ci sarebbero ancora due ipotesi, quella appunto del Conte Ter o quella di un governo istituzionale. Ma qui ci sono differenze, cioè, avete sentito Tabacci, un governo del Presidente per portare il Paese al voto o un governo del Presidente che copra, diciamo, la parte restante della legislatura. Insomma, ovviamente c'è molto di cui parlare e molto da approfondire. Poi c'è il centrodestra che, in qualche modo, è alla finestra. Salvini lo ha ripetuto ancora una volta questa mattina. Bisogna dare la parola agli italiani. Mettiamo in campo subito i decreti, approviamo le misure più urgenti e poi andiamo a nuove elezioni. Cominciamo da qui, poi parleremo anche di vaccini, perché la campagna di vaccinazioni va completamente rimodulata, perché, come sapete, l'approvvigionamento ha subito, insomma, grandi contraccolpi per i ritardi delle case farmaceutiche. Intanto saluto qui in studio Carlo Puca, bentornato. Buongiorno Andrea, buongiorno. Do il bentornato a Massimo Devanzoni, condirettore della Verità. Ciao Massimo. Buongiorno. Saluto il Professor Crepe. Bentornato, Professor Crepe. Buongiorno, buongiorno a voi. Saluto Michele Ainis, costituzionalista. Bentornato, Professor Ainis. Buongiorno, salve. Buongiorno e buon lunedì anche ad Andrea Fontana, sociologo della comunicazione. Bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anzi, mi dice anche una cosa, perché è una curiosità, perché tra i tanti suoi cappelli leggo anche activist di storytelling. Che vuol dire? Vuol dire che ormai tutti noi siamo all'interno di narrazioni e bisogna cercare di capire come funzionano queste narrazioni politiche, sociali e economiche per cercare di non esserne dominati ma capirle e accoglierle. Arduo compito. Allora, intanto è appena arrivata la notizia che nella sala della lupa di Montecitorio è partita la riunione appunto del tavolo di lavoro convocato da Roberto Fico. Poi magari man mano vi elenco i partecipanti, perché sono moltissimi. Assembramento. Assembramento. È un assembramento vero e proprio. Poi per chi mastica, per chi è appassionato di politica, insomma sappiamo più o meno quali sono i partecipanti a questo tavolo. Allora, intanto vorrei chiedere subito a Carlo Puca a che punto siamo. Io ho detto ai tempi supplementari, perché molti oggi individuano in questo lunedì la giornata è una giornata cruciale e poi bisogna andare dal capo dello Stato a dire qualcosa. Beh, è oggettivamente una giornata cruciale, perché oggi sapremo se questa alleanza resiste intorno al nome di Conte oppure si va ad un altro Presidente del Consiglio. Perché va al netto dei discorsi, noi possiamo fare tutti i discorsi sui programmi, i contratti, adesso c'è questa cosa dei contratti. Cioè i contratti che sono stati sempre scritti un po' sull'acqua da parte di tutti nella storia. Cioè è sempre accaduto così. Anche in questa legislatura sono stati siglati ben due contratti. Uno tra Lega e Cinque Stelle, un altro tra Gialorosa. Gialorosa, giallorussico è quello, ma c'è tutto da verificare. Però appunto i contratti poi sono rimasti lì, per cui è chiaro che quello è un modo per trovare un accordo, una quadra da un punto di vista simbolico, ma da un punto di vista poi concreto noi a questo siamo. Conte Ter, traghettatore, quello che hai detto tu, 1x2. Conte Ter, traghettatore o diciamo premier tecnico parapolitico politico che invece si fa tutta la legislatura. E davvero fare una previsione su quello che può accadere è veramente complicatissimo. Cioè non lo sanno manco loro quelli che stanno entrando nella sala della lupa. I programisti, insomma. Sì, manco loro sanno ancora dove si va a parare. Il pallino, il boccino è molto nelle mani di Renzi, naturalmente. Ecco, allora adesso ripartiremo da qui. Una curiosità, hai guardato i siti dei bookmaker inglesi, che spesso sono orientativi? No, no, non l'ho guardato, mi è mancata questa cosa, però se volete i 50 centesimi io posso scommetterli su una cosa, ecco. Però mi faccio un'idea con tutti gli ospiti e poi alla fine scommetto. Adesso, adesso li fuggiamo tutti in questo. Andiamo però subito in pubblicità così non interrompiamo nessuno e ripartiamo, perché noi abbiamo voluto mettere insieme alcune delle cose che diciamo sono sotto la definizione temi divisivi. Siamo andati a vedere quali sono i temi divisivi, lo vediamo dopo la pubblicità. Noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che chiarisca chi fa cosa e in che tempi e che tolga a tutti gli alibi. Dei temi divisivi si può discutere, fa sapere Renzi ai suoi nemici e amici della maggioranza. Il leader d'Italia Viva chiede di sedersi intorno a un tavolo con gli alleati per discutere di contenuti. Il MES resta tra gli argomenti più spinosi all'origine di questa crisi, un tema da accantonare per il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, non per Renzi. Il MES vuol dire 36 miliardi di euro per la sanità, noi siamo convinti che questi soldi servano ai nostri infermieri, ai nostri ricercatori, ai nostri ospedali, alle nostre strutture della medicina territoriale. Se il Movimento 5 Stelle è contrario, come ha sempre sostenuto, cercheremo di capire le ragioni. Certo è che se noi siamo disponibili a farci carico di trovare delle soluzioni sul MES o su altro, vogliamo verificare che la disponibilità sia anche degli altri, perché noi vogliamo un governo politico ma non a tutti i costi. E ieri il coordinatore di Italia Viva spiegava, se ci dicono troviamo altre fonti per reperire le risorse, per rilanciare il sistema sanitario e ci confronteremo, non mettiamo condizioni insopportabili a nessuno, non avremo mai un atteggiamento preclusivo su un tema che può condizionare tutto il resto. L'invito a cercare quel punto di caduta citando Renzi passa per capitoli poderosi come la gestione delle risorse del Recovery Fund, che si possono spendere meglio, il capitolo scuola con stop and go continui di aperture e chiusure, le grandi infrastrutture con i cantieri che non partono nonostante ci siano i soldi e poi la riforma della giustizia, tema divisivo per eccellenza, tanto che alla vigilia della relazione in Parlamento del Guarda Sigilli Bonafede, Conte è stato costretto ad annunciare le dimissioni, consapevole che il governo in Senato sarebbe certamente andato sotto, mentre la caccia ai responsabili era fallita. Temi divisivi che non hanno trovato finora sintesi, ma nel mirino di Renzi c'è pure il piano vaccinale che accumula ritardi, con alcuri finito nel mirino anche per l'annuncio dei centri Primula e a poco è servita la sua autodifesa. Abbiamo pubblicato il 20 gennaio la gara per la realizzazione dei padiglioni temporanei temporanei destinati alla somministrazione, quando la campagna di vaccinazione di massa potrà iniziare, è molto difficile iniziare una compagna di somministrazione di massa di vaccini se non ci sono i vaccini. È chiaro che in questo momento c'è un ritardo consistente, se poi riusciamo a vaccinare una media di 200-250 mila persone al giorno nei prossimi mesi questa immunità di popolazione potrebbe arrivare nel prossimo autunno-inverno, però ce la dobbiamo mettere tutta perché non è un fatto scontato. Oggi peraltro un nuovo incontro tra Boccia, Speranza e Arcuri e i rappresentanti, cioè i presidenti delle regioni, proprio per rimodulare questo piano vaccinale. Voglio dare una notizia di servizio che è molto importante, riguarda il Lazio, gli over 80, chi ha più di 80 anni perché da oggi doveva essere attivo da questa mattina il numero verde della regione per prenotarsi, ecco slittano alle 12 le prenotazioni, diciamolo perché un sacco di persone ci hanno scritto, telefonato, dicendo non funziona niente, ai numeri non risponde nessuno, c'è uno slittamento dalle 12 di questa mattina, ci si potrà prenotare sul sito della regione Lazio, ecco è importante sottolinearlo. Allora poi c'è un'altra precisazione da fare, torno subito a Carlo Pucca. Abbiamo fatto la battuta sull'assembramento alla Camera, ma invece alla Camera c'è un grande attenzione al Covid, è uno dei posti più sicuri d'Italia, ecco chiamiamo. Dice che anche lì come già al Quirinale ci sarà un enorme tavolo, un immenso tavolo con di visione, distanziamento e così via, perché insomma lungi da me fomentare l'antipolitica per carità di Dio, anzi voglio dirlo che è uno dei luoghi veramente più sicuri in assoluto. Adesso torniamo ai temi squisitamente politici, faccio un passaggio rapidissimo col professor Crepe. Professor Crepe, ieri di nuovo nelle grandi città, assembramenti, folla nelle strade, con i tecnici che ci avvertono, attenzione, guai a perdere la prudenza, se no riesplode la pandemia e stamattina Salvini ripete, non bisogna prendersela con la gente che fa due passi, complice anche come dire il tempo abbastanza buono ieri. E su questo che possiamo dire? Perché è un copione già visto. Beh, cosa vuole? Senza governo la barca va dove vuole. Si hanno rotto il timone e poi non se la prenderanno con i marinai. Quindi mi pare evidente che tutto questo ammassamento, io non lo capisco, però c'è qualcuno più intelligente di me che naturalmente capirà perfettamente perché bisogna andare in 2000 al metro quadro in via del corso a Roma. Poi ci sono anche delle altre cose di cui non si occupa nessuno che sarebbero i duelli notturni dei quattordicenni. E' una cornice molto esaltante del nostro paese dove ci sono quattordicenni, tredicenni e poi se vogliamo continuare perché ci sono anche quelli che sono lasciati a se stessi, che si impiccano. Ieri ce ne sono stati tre, scusate se dico queste cose che non sono molto, è forse più edificante parlare della trattativa di governo che non avverrà, perché è evidente che non avviene. Non avverrà, però. Si stanno prendendo in giro, ma secondo c'è i capelli bianchi non ci credo manco se li vedo, o uno dice una cosa per dire il contrario e allora questo anche uno psichiatra di una certa esperienza cede. Oppure se è vero quello che ha detto Renzi, ha detto che non si può fare. Vediamo. E' tutto lì, è molto semplice, voglio una Cadillac mi danno una Panda, come si fa? Non lo so, ci dicano loro, ma stanno prendendo in giro, in questo momento stiamo fallendo, fallendo, leggetevi quello che dice Gabanelli oggi sul Corriere della Sera, c'è un fallimento della campagna vaccinaria spaventoso, paghiamo tre volte il dovuto. Ma è possibile che nessuno, se si occupi di queste cose, l'unica cosa che ci interessa è sapere se entra alla Boschi o se esce alla Boschi? Eh, però aspetta, aspetta, professore. Non abbiamo fatto la nostra pazienza. No, certo, noi l'abbiamo fatto vedere prima perché nel mirino di Renzi, adesso magari il termine non è elegantissimo, c'è anche il commissario Arcuri e come. Allora, facciamo un passaggio subito. Lo dice la Capanelli, con tanto di dati, non lo sto dicendo io. No, no, certo. Ci sono dei dati, andate a vedere, c'è una regione che paga 36 e il resto d'Italia che paga 100. Ditemi voi il perché. Sì. No, peraltro... No, peraltro... Un signore che non è preoccupato di sanità in vita sua, va bene così? No, aspetti, aspetti, io penso che peraltro noi abbiamo fatto sentire la voce, abbiamo fatto una lunga intervista sabato con il professor Ricciardi che è il consulente di Speranza, il consulente scientifico, quindi non è che è una voce dell'opposizione e anche lui ha sottolineato i ritardi del piano vaccinale. In un'intervista oggi dice che Arcuri ha fatto un gran lavoro nell'approvvigionamento, ma forse la gestione del piano vaccinale andava data ad un'altra persona. quindi noi stiamo citando un consulente del governo, non un rappresentante dell'opposizione. Aspettate, aspettate, fatemi andare avanti perché se no non sentiamo tutti. Adesso torno, Carlo, ne andiamo da Massimo De Manzoni. Peraltro oggi la verità, il tuo giornale in primo piano mi pare mette i banchi a rotelle e non la crisi politica come titolo principale, no? Adesso lo vediamo forse della verità. Eccolo qua. Un'altra delle imprese d'Arcuri, io, permettimi questa piccola rivendicazione d'orgoglio, la Gabanelli oggi ha fatto uno splendido lavoro di recupero e di collage di cose che, se qualcuno legge la verità, sa che sono mesi che stiamo ripetendo, mesi. Il problema di questo paese, uno dei tanti problemi di questo paese, è indubbiamente questo accentramento di poteri nelle mani di una sola persona, inspiegabile come accentramento, visto che questa stessa persona, appunto, non è che abbia dato grandissime prove. L'ultima è l'esito della campagna per i banchi a rotelle, che sono finiti in soffitta perché fanno venire il mal di schiena. Nessuno aveva mai capito perché fossero stati comprati. Adesso finiscono in cantina. Faccio solo sommessamente notare due cifre. Per questi banchi sono stati spesi quasi 500 milioni di euro. Per il vaccino italiano, che mi sembrerebbe leggermente più importante, il commissario Arcuri si è deciso a investire 81 milioni di euro dopo nove mesi di attesa che Reitera, che era l'azienda che avrebbe potuto cominciare già a produrre i vaccini, già quest'estate chiedeva un finanziamento e gli è arrivato l'altro ieri. 81 milioni di euro. Quest'estate dovevamo spenderne 500 mila per i banchi a rotelle. Quindi questa è la situazione. Dopodiché io sono perfettamente d'accordo con il professor Crepe quando dice che ci stanno prendendo in giro. Ma è la seconda che ha detto. Cioè dicono una cosa e ne stanno pensando assolutamente un'altra. Per cui è chiaro che non potremo mai capire esattamente come stanno manovrando le cose. C'è uno scontro tra enormi debolezze. Il Movimento 5 Stelle che non sa più neanche che cosa sono e sono disposti praticamente a tutto. Il Partito Democratico che non ha uno straccio di idee in testa e che ormai da anni si nasconde dietro la parola responsabilità per mascherare semplicemente il fatto che ha una voglia di potere senza avere voti in tasca. Ma la debolezza è anche di Renzi. Perché adesso lui passa perché è chiaro che in questa situazione il più abile da livello personale e Renzi abile e spregiudicato lo è, passa per quello che dà le carte. Ma Renzi ha anche un problema abbastanza serio all'interno del suo partitino. Ha una via che gli è preclusa che è quella delle elezioni che per carità lui fida molto sul fatto che nessuno ci voglia andare, però sapete come sono queste situazioni. Quando si tira molto la corda poi alle volte ti si spezza in mano e finisci dove non volevi finire. E l'altro problema ce l'ha nel fatto che il partito è completamente diviso. Tant'è vero che la votazione decisiva al Senato ha dovuto astenersi perché altrimenti gli scoppiava in mano la piccola formazione. Tu dici che ci sono ovviamente, come è sotto gli occhi di tutti, insomma, al di là della posizione politica, delle simpatie politiche, c'è una grande debolezza da parte delle forze di governo. Voglio andare dal professor Ainis perché voglio chiedere al professor Ainis se gli scenari che così modestamente elencavamo e che vengono elencati sono quelli o se ci può essere alle viste qualche altra soluzione, professor Ainis. Ribadendo, ripetendo, riassumendo, o un conteter o un governo sempre nel perimetro di questa maggioranza con un altro presidente del Consiglio, un altro nome, o un governo del presidente che arrivi a fine legislatura, insomma, duri, o un governo, come dire, traghetto, che traghetti al voto. È così, professor Ainis? Sì, più o meno è questo. Diciamo un governo, sullo sfondo ci potrebbe essere un governo di unità o di quasi unità nazionale che i partiti potrebbero gestire facendosi rappresentare dai propri dirigenti oppure lasciando il campo a dei tecnici. Questo avrebbe probabilmente il vantaggio se si dovessero prendere delle decisioni impopolari da parte dei partiti di non scottarsi le dita direttamente, quindi di potersi tirare e chiamare fuori nel momento in cui gli elettori chiederanno conto delle scelte o delle non scelte fatte. Io però vorrei fare una domanda provocatoria fino a un certo punto. Ma siamo sicuri che c'è una crisi di governo in questo momento? Siamo sicuri? Perché? No, perché allora c'è un governo di missionario che quindi dovrebbe avere la sua fisarmonica dei poteri molto ridotta e ridotta alla ordinaria amministrazione. In realtà però anche il governo di missionario certamente deve intervenire con misure straordinarie se c'è un'emergenza, se c'è un terremoto, che il governo sia di missionario o no, qualcosa devi fare per fronteggiare il terremoto. Ora noi il terremoto ce l'abbiamo in casa da un anno, c'è una pandemia, c'è un'emergenza sanitaria, tant'è vero che questo governo, benché di missionario, continua a colorare in giallo, in rosso, in blu le aree d'Italia, quindi incidendo sulle nostre libertà, come peraltro è sacrosanto fare per difendere la salute collettiva. Quindi il governo di missionario in realtà ha più o meno gli stessi poteri che aveva prima e la crisi di governo fin qui, che cos'è se non una verifica? Perché sono gli stessi attori che sorreggevano il Conte 2, che adesso stanno intorno a un grande tavolo, magari si è aggiunto qualche comparsa minore, ma insomma di partiti che avevano votato quella fiducia. Noi abbiamo avuto, molti pensano che servirebbe al nostro Paese per stabilizzare i governi, introdurre il meccanismo della fiducia costruttiva, invece abbiamo sperimentato qui la fiducia distruttiva, perché il governo Conte ha ottenuto la fiducia dopo di che si è dovuto dimettere. Insomma ci sono una serie di paradossi in questa vicenda che magari potrebbe concludersi con un ennesimo paradosso, noi lo abbiamo sperimentato nella storia italiana, anno di Grazia, 1849, il gabinetto Gioberti va in crisi, alla fine della crisi restano tutti i ministri e cambia solo il Presidente del Consiglio. Magari va a finire così, chi lo sa. Sì, con buona pace, no, con buona pace, con soddisfazione. Si è pure più o meno con Renzi, quando si è dimesso a Presidente del Consiglio, perché poi alla fine il governo è rimasto lo stesso, è arrivato Gentiloni, poi alla fine più o meno le caselle erano quelle. Intanto ci sarebbe qualcuno contento, lo dico ovviamente sorridendo, che il capo di Confindustria Bonomi che ha detto Gualtieri deve restare all'economia, almeno per la permanenza, se ci fosse la permanenza di Gualtieri almeno sarebbe contento il Presidente Bonomi. No, però voglio chiedere un'altra cosa, perché poi devo andare in pubblicità e poi dobbiamo andare da Andrea Fontana. Voglio chiedere un'altra cosa però al Professor Ainis, siccome si riparla, anche Carlo Puga lo accennava, al nuovo, a un nuovo possibile contratto di governo, no? Allora io la domanda che voglio fare al Professor Ainis è questa, sarà un accordo, ammesso che ci si arrivi, tra rivali, sarà una treguarmata? Però insomma uno dice mettiamo nero su bianco e ci vorrebbe anche il cosiddetto cronoprogramma, cioè nero su bianco cosa fare e come farla, in che tempi farla, no? Mi pare di capire che lei sia molto scettico, Professor Ainis, ma perché in qualche altro paese si riesce a far rispettare un contratto di governo, un programma di governo e da noi no? Beh, riferimento alla Germania, ma lì ci mettono mesi a stilare un documento che è molto puntiglioso, molto dettagliato, mentre le nostre esperienze dei due contratti di governo che dovevano essere per l'intera legislatura e che invece sono durati un annetto a testa, adesso avremmo il terzo contratto, se così sarà pure questo per l'orizzonte dell'intera legislatura, ma chi lo sa, sono poi invece un po' generici e allora poi vanno interpretati e noi in questo siamo specialisti, no? Diceva Giolitti la legge si interpreta per gli amici e si applica per i nemici. Probabilmente accadrà lo stesso. Eh, allora non ne usciamo però, andiamo in pubblicità, una battuta finale e poi vanno da andare a fronte. E poi tra l'altro questi contratti hanno un limite, cioè l'attualità, la cronaca, quello che avviene, cioè nel senso che se c'è il Covid il contratto non vale più per una ragionezza, non puoi prevederlo, cioè ci sono miliardi di cose. Adesso facendo tutti gli scongiuri, peggio di quello che è accaduto, non lo so a che dobbiamo pensare. La realtà ti mette di fronte a delle situazioni che poi non puoi affrontare attraverso un contratto di governo flessibile. Però alcuni punti che già si conoscono da mesi, se non da anni, forse si potrebbero affrontare nel dettaglio, come dice il professor Aynis. Sappiamo tutti che va abbattuta la burocrazia, per esempio. Quello però tu in Italia lo scrivi abbattiamo la burocrazia. Come? Allora pubblicità e poi riparto da Andrea Fontana, tra poco. Allora vado subito a Andrea Fontana dando il dato appena pubblicato dall'Istat che riguarda il lavoro, il mondo del lavoro a dicembre. Il dato riguarda dicembre scorso. L'occupazione è diminuita dello 0,4% rispetto al mese di novembre, con un calo di oltre 101.000 unità. Nel mese si registra quindi un incremento dei disoccupati e degli inattivi. La diminuzione dell'occupazione coinvolge in particolare le donne, i lavoratori sia dipendenti sia autonomi e caratterizza tutte le classi di età, con l'unica eccezione degli ultra cinquantenni. Il tasso di disoccupazione generale a dicembre è al 9%, questo è il dato, tanto per non farci mancare nulla. Considerate che siamo ancora alla luce del blocco dei licenziamenti e di un uso, un ricorso legittimo, imponente alla cassa integrazione. Andrea Fontana, faccio un esempio pratico così lei ci spiega quanto è cruciale la comunicazione, soprattutto in una fase come questa della pandemia. Prima De Manzoni citava il vaccino Reitera-Spallanzani, capiamoci. Qualche settimana fa sono stati presentati i risultati della cosiddetta fase 1, sono tre fasi di sperimentazione, quindi siamo ancora lontani da avere tutti i dati. Qualcuno ha detto a settembre questo vaccino dovrebbe cominciare ad arrivare. La professoressa Antonella Viola, che spesso vediamo in tv, che è un'esperta, una scienziata, l'altro giorno ha detto, intanto non abbiamo dati utili a capire l'efficacia e la sicurezza di questo vaccino, ma soprattutto c'è un altro fattore da tenere presente, dice la professoressa Viola. Ormai ci sono già diversi vaccini anti-covid, dove troveranno i volontari per testare questo vaccino e sarà ancora più difficile la ricerca di volontari. Allora, faccio un piccolo riassunto. Tutto questo ovviamente alimenta un altro cortocircuito e anche il disorientamento, perché poi le persone, non so se sono esigenze basilari, ma vogliono sapere quando arrivano i vaccini, a chi sono destinati, quali fasce di popolazione riguarderanno. Questo è il bisogno primario. E' un esempio calzante o no? Pancani, assolutamente sì, ma non c'è solo questo, c'è il lavoro, c'è la scuola. Ci sono tantissime cose oggi di cui tutti noi abbiamo bisogno a proposito di comunicazione, perché riprendo la metafora di prima del professor Crepe, sembra non solo che non ci sia nessuno che abbia in mano il timone, ma nemmeno più nessuno nella cabina di regia a comunicare poi dove sta andando questa barca senza più un comandante. Questa è una situazione che deve essere ovviamente ripristinata, perché se andiamo a vedere la comunicazione che c'è stata nell'ultimo anno, perché non dimentichiamo, c'è un anno che noi siamo sottoposti a questa crisi, non un mese. All'inizio, da marzo, l'anno scorso più o meno, da marzo fino a giugno c'è stata una comunicazione in qualche modo importante, eravamo tutti sotto shock e il governo, ma anche le varie regioni hanno cercato di fare il loro meglio per trasferirci sicurezza, l'andrà tutto bene, eccetera. C'è stata poi una seconda fase durante l'estate in cui la comunicazione è andata un po' in vacanza anche lei e poi una terza fase iniziata nell'autunno, intorno a settembre-ottobre, dove è deragliato tutto, perché non dimentichiamoci che ci è stato detto stiamo chiusi due settimane perché andrà bene, poi no, ci siamo sbagliati, dobbiamo chiudere per Natale perché così non ci sarà la terza ondata, così arriveranno meglio i vaccini. Cioè è una isteria, una schizofrenia comunicativa terribile. E questo cosa implica? Implica che si rompono o si rompe il ciclo delle promesse, perché quando io comunico qualcosa, soprattutto in un momento di crisi grave come quella che stiamo attraversando, faccio delle promesse alle mie comunità e se ogni due settimane le nego, genero un disagio, un'aggressività, non possiamo neanche più parlare di paura adesso, proprio di disagio e di aggressività per cui accadono le cose che citava anche il professor Crepe prima. quindi spero che il futuro governo possa in qualche modo non solo ripristinare un'azione politica, ma anche una narrazione politica. Sì, voglio dire anche una cosa però, torno da Pucca, perché è vero, tutto è sotto gli occhi di tutti noi, diciamo, quello che è successo e la gestione di tutto quello che è successo, però eravamo di fronte a una cosa assolutamente inedita, sconosciuta. Lo dico perché, per non essere ipocriti, anche quando si condanna l'azione di questo governo, l'azione di Conte, l'azione di Arcuri, per essere onesti intellettualmente bisogna tenere presente che si è abbattuta su tutti noi una cosa gigantesca o no? No, cosa gigantesca e nuova e aggiungerei all'elenco anche le regioni. Il problema è vero, secondo me, la vita è complicata in questo periodo, è una vita complicata per tutti. Ora, per esempio, tutto il discorso sugli approvvigionamenti è un discorso molto complicato da accettare, tu, Cur, come se noi fossimo stati in un periodo normale. È chiaro che degli errori sono stati fatti, ma sono stati fatti non soltanto dallo Stato Centrale, anche dalle regioni. Qual è il limite della politica, secondo me? È che invece di unirsi e dire, guardate, è una guerra. In una guerra non si può pensare di vivere in condizioni normali. Quando c'è la guerra, c'è la guerra. E quindi si fanno errori, si prendono decisioni sbagliate, ma anche alcune giuste. Il problema della politica è che c'è stato, ah, tu hai fatto questo, sei mesi fa tu hai fatto quest'altro, in Lombardia è successo questo, a Roma avete fatto quest'altro. Allora, il punto vero è che bisogna essere uniti in situazioni come queste. Cioè, i primi a fomentare l'antipolitica sono stati politici tra loro, perché appunto, se sei amico mio, allora ti difendo. Se sei nemico politico, ti attacco, ti accuso. Non va bene. È chiaro che si sbaglia delle cose. Il punto, se posso dire, io credo che noi dovremmo concentrarci, anche come sistema di informazione, non sugli errori fatti, sugli approvvigionamenti, perché si è pagato di più le mascherine, perché in il momento servivano le mascherine, quindi probabilmente con l'ansia di prendere le mascherine hai pagato un po' di più le mascherine. Il problema davvero è il piano vaccinale, perché noi sappiamo che è un salvavita e che deve guardare avanti. Cioè, noi adesso sappiamo cosa dobbiamo fare. Non è più un anno fa, lo sappiamo. Quindi adesso non dovremmo più commettere errori. Non andare ad analizzare gli errori di tutti, di sei, sette, otto mesi fa, perché è sbagliato. E la politica dovrebbe unirsi in questo. La conclusione del tuo discorso, dal punto di vista politico, è una sola, non lo so, magari sbaglio, tutti uniti, unirsi vuol dire un governo di unità nazionale. Certo, se però lo fosse sinceramente, il mio, diciamo, dubbio gigantesco è che poi alla fine siamo al punto a capo, cioè nel senso che se questi si messe, ammesso, ammesso, io so, ho molti dubbi che ci fosse un governo che va, diciamo, da Leo più o meno alla Lega con un appoggio esterno, tutte cose che si leggono, alla fine poi tu hai il problema, il MES chi lo approva e le altre decisioni importanti. Sì, perché i numeri del Parlamento poi sono quelli, con quelli bisogna fare i conti. Come li prendi? Alla fine, o si decide che si cambia mentalità a tutti e si va appunto verso un governo di tutti, che però appunto pensi in maniera assoluta, oppure è meglio non farlo, a quel punto meglio le elezioni. Meglio le elezioni. Meglio le elezioni che fare la maionesi impazzita. Ammesso, poi bisogna vedere che quadro esce, potrebbe uscire dalle elezioni. Che poi è un altro tema ancora, noi diciamo sempre che è la politica, la politica, la politica. In verità, questa è la storia di questo Paese, cioè anche quando Berlusconi ha avuto 100 parlamentari di vantaggio e non c'era il Covid, lì comunque le fibrillazioni ci sono sempre state, lì i follini, i fini, vi ricordate tutta questa vicenda? Cioè, è il sistema parlamentare italiano, che è un sistema diverso da quello di tutto il resto del mondo, perché noi viviamo mentalmente nella proporzionale. Poi lo chiediamo, però prima di Paolo Sottocorona, una battuta ancora con il professor Crepe. Professor Crepe, lei prima all'inizio appunto avevamo accennato di nuovo alla folla per le strade, molte regioni da oggi, la gran parte d'Italia sarà in zona gialla, come mi pare solo 5 regioni arancioni, rosse non ce ne sono più. Però qualcuno, ieri, io sentivo una riflessione forse molto semplice, però molto vera, qualcuno mi ha detto, ma vi rendete conto che chi ha la fortuna di avere un lavoro, va a lavorare e poi torna a casa? Non può fare altro praticamente, no? Adesso riapriranno un po' i ristoranti a ora di pranzo, eccetera. Sono chiusi i teatri, sono chiusi i cinema, sono chiuse le palestre, cioè non esiste più socialità, anche se vuoi invitare qualcuno a casa, insomma devi essere molto attento, limitare molto le presenze. E questo però porta ad avere delle reazioni, adesso sbagliate, non sbagliate, eccessive. È un po' questa la dimensione contro la quale diciamo c'è questa protesta, Professor Crepe? Ma ci abbiamo anche provato, abbiamo anche detto che il virus non era più clinicamente vivo e quindi siamo andati tutti a mangiare, a goderci, al mare. Ci è costato 50.000 morti che evidentemente non sono stati sufficienti. Adesso ce ne saranno degli altri. Siamo 88.000 in un anno di... Che mi si dica che la pandemia era una cosa... Sì, è vero, sì, certo, però io metto di nuovo sulla nave un capitano di esperienza, non metto il primo squignizio che passa per il porto. Scusate se continuo a dirlo, ma è così. Allora, se uno mi dice non si sa perché è lì un certo signore, normalmente quando i politici dicono questo è perché sanno benissimo perché è lì quel signore, perché non è una svista, no? Non è che uno dice oddio, è capitato... Siamo signori di mondo, dai. Allora, questa cosa, la vaccinazione non sta andando, abbiamo dei ritardi abissali, ci sono anche dei deficienti totali, 400.000 se vi sembrano pochi, che si sono vaccinati, non avendo alcun diritto, che poi sono dei idioti totali, perché si devono fare la seconda vaccinazione. Quando si faranno la seconda vaccinazione verrà fuori che sei un cretino. Io spero che quel signore paghi 10.000 euro, perché tanto sono miliardari, lo sappiamo già chi sono, sono dei miliardari della gente che pur di salvarsi la pelle, paga milioni. Quindi questa cosa qua, terza cosa, c'è qualcuno che si è dimesso? In tutto questo anno di disastro totale, dicono che sia una delle cose peggiori della storia dell'umanità. C'è un sottosegretario, una segretaria, un portavusse, un autista che si è dimesso, uno, niente, stanno tutti lì. E voi dite che ci sono le elezioni, ma se ci sono le elezioni, la metà dei signori che sono convocati in quella stanza lì vanno a casa. Sì, sì, anche perché c'è stata, certo, con presorenzi perché o gli metti uno sbarramento al 5% e finisce la cosa. Oppure non metti nessun sbarramento, entra anche un uomo. Io ho detto meglio le elezioni, non ho detto che si fanno le elezioni. Allora, sì, hai detto meglio le elezioni, aspetta, lo riprendiamo tra pochissimo questo discorso. Paolo, buona settimana. Allora, come comincia la settimana meteorologicamente parlando? Ma comincia, diciamo, va verso il meglio, mettiamola così, perché a guardare queste prime immagini, insomma, di nuvole ce ne sono molte su tutta Italia, anche se in realtà di piogge non ce ne sono tante. Vediamo allora nel pomeriggio dove vanno a concentrarsi queste piogge. Deboli sulle zone del centro, schiarite che si aprono al nord. Al sud, specie sul versante tirrenico, c'è qualche fenomeno un po' più intenso, quindi questo tempo rimane instabile, realmente, soprattutto sulle zone del sud. Giornata di domani, le schiarite avanzano, prendono anche il medio versante tirrenico come minimo, ma al sud, vedete soprattutto sulle zone interne del sud peninsulare, ci sono ancora fenomeni localmente consistenti, quindi non sarà una giornata di grandi piogge temporali, ma qualche fenomeno sicuramente c'è. Per arrivare alla giornata di mercoledì, in cui al sud tutto migliora, al nord tornano piogge piuttosto deboli, soltanto in Liguria forse qualche fenomeno un pochino più intenso, ma in realtà non dovrebbe essere l'inizio di un peggioramento, ma questa fase in cui c'è il tempo da una parte un po' più stabile, da una parte un po' meno, con temperature che sono risalite e forse risaliranno ancora un poco, il che non è bene di questi tempi, ve lo dico subito. A proposito di temperature, questa foto ci viene da Madonna di Campiglio, Massimo ce la manda, e dice quanto ben di Dio sprecato, anni in cui non c'era neve, si poteva andare ovunque, non c'era la neve, adesso la neve c'è, ma sono d'accordo con le ultime cose dette, siccome siamo in guerra, è inutile che facciamo finta di no, perché diventa pericoloso. Grazie, valo sotto corona, rapidissimi, pubblicità e ripartiamo, ripartiamo anche da quanto ha detto Carlo Pucca, nel DNA abbiamo il proporzionale, vabbè adesso ne parliamo, a tra poco. Allora, un paio di notizie importanti, intanto la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha fatto sapere che Pfizer-BioNTech consegnerà 75 milioni di dosi in più nel secondo trimestre di quest'anno, per un totale di 600 milioni di dosi entro la fine dell'anno, considerando che gli europei sono 500 e passa milioni, mi pare, vado a memoria. Poi c'è un'altra notizia, prima parlavamo dell'eterna contrapposizione tra governo, regioni, tra anche organi dello Stato, articolazioni meglio dello Stato, poco fa il capo dei sindaci italiani, dell'Anci, che è il sindaco di Bari, De Caro, ha tuonato contro il CTS, ha detto basta con il tiro al bersaglio sui sindaci, il CTS pensi a fare la sua parte, dare la colpa ai sindaci sta diventando il nuovo sport nazionale, questo a proposito degli assembramenti nelle città. Dice ancora De Caro, Miozzo, che è il coordinatore del CTS, sembra impegnato in un disperato tentativo di allontanare da sé le responsabilità e addossarle sugli obiettivi più facili, quelli che per natura e per senso del proprio dovere sono abituati a esporsi in prima persona. Così, Professor Aini, se non ne usciremo mai, eh? Non ne usciremo vivi, mi verrebbe da dire. Noi abbiamo assistito a un miracolo della scienza che è riuscito in un anno a fabbricare questo vaccino, dopodiché ci stiamo impigliando nella somministrazione del vaccino e cioè questo è uno sforzo di tipo burocratico su cui noi siamo sui verbi difettivi da sempre. Questa crisi, semmai, ha funzionato come una lente di ingrandimento su dei mali che c'erano già tutti sul gruppone, la rissa sulle competenze statali, regionali o degli stessi sindaci non è da oggi, insomma, che è un ginebraio. E sente, a proposito del fatto che abbiamo il proporzionale adesso al di là dei sistemi elettorali, insomma, ci sono state in questi anni, in questi decenni, grandi discussioni e però è tutto frastagliato, è tutto sfilacciato e questo però è un grande problema. Peraltro mi pare che le forze dell'attuale maggioranza si vorrebbero accordare su una legge squisitamente proporzionale, no professor Ainis? Allora, io non credo che esista un sistema superiore all'altro, dipende dalle stagioni della storia e dal clima politico di una società, quindi può essere buono il maggioritario in una fase, il proporzionale in un'altra. Il proporzionale fu il sistema implicitamente sottoscritto dai costituenti, l'assemblea costituente venne eletta con un proporzionale, il punto semmai sarebbe quale proporzionale, con quale soglia di sbarramento, perché altro è che tu metti il 5, come è in Germania, e quindi fai argine alla disgregazione, alla situazione in piccoli o microscopici partiti, altro è che tu metti l'uno. Ricordo peraltro che capisco che non è un tema eccitante, ma però noi abbiamo fatto una riforma, quella del taglio dei parlamentari e tutti, si era detto, serve una riforma elettorale che renda coerente la riforma costituzionale che ha certamente un effetto maggioritario implicito, no, perché se tu diventa un collo di bottiglia, se tu fai diminuire i seggi c'è un effetto maggioritario, che in alcune regioni, le più piccole, la Basilicata per esempio, determina effetti distorsivi, quindi la riscrittura della legge elettorale era in qualche modo un adempimento costituzionale, non se ne è più parlato, adesso poi era stata, mi pare che si è invece adesso sul tavolo delle trattative, però vorrei dire che se non ci si riesce, noi andiamo a votare con questa legge elettorale che oltre a essere disarmonica rispetto al nuovo plenum delle assemblee legislative, è comunque una legge che è proporzionale per due terzi e quindi col 3% entra in Parlamento e quindi potremmo trovarci di nuovo con gli stessi problemi che abbiamo oggi tra elezioni consumate. Questo è molto importante questo che ha detto, torno da Massimo De Manzoni. Massimo, è il centrodestra, mi verrebbe da chiederti, cioè è chiaro che in questo momento è spettatore, poi sappiamo le varie posizioni, ne abbiamo parlato lungamente in questi giorni, no? Dal tuo punto di vista ci vorrebbe uno scatto di qualche tipo da parte del centrodestra? Beh, è difficile avere uno scatto in questa fase per varie ragioni, una delle quali che il centrodestra non è che sia compatissimo sulle eventuali soluzioni. A me però pare che comunque la posizione complessivamente sia abbastanza netta, no a questo governo, voto e eventualmente una subordinata che la Lega lascia quasi intravedere. Fratelli d'Italia non vuole neanche prendere in considerazione, Forza Italia invece sì. Però la prima cosa è il voto e devo dire che francamente mi sembra che qui dobbiamo andare a cadere, perché questo a cui stiamo assistendo è accadimento terapeutico. Sono dei pezzi di maggioranza che non stanno insieme, non stavano insieme neanche prima, avevano un collante però prima che si chiamava paura di andare a votare, ma soprattutto si chiamava paura di perdere, si chiamava, non voler concedere agli avversari la vittoria, che è una cosa vagamente poco democratica. Non andiamo a votare perché altrimenti vincono quegli altri. Però nel 2019 è andata così, è passato un anno e mezzo, li abbiamo visti alla prova. Gli risultati mi paiono disastrosi, al di là della comunicazione che è molto importante e che quindi spesso abbellisce, abbiamo un professionista qui della comunicazione che ce lo può confermare, abbellisce la narrazione, ma i risultati sono disastrosi, sia sul piano sanitario, sia su quello economico. E perché dobbiamo canirci, a rimettere insieme una compagine che non funziona, perché non è ascoltato solo una questione di nomi, non è che se togliamo Conte, sì per carità dal punto di vista estetico ne guadagniamo molto, ma se togliamo Conte e mettiamo Franceschini, non è che abbiamo cambiato la situazione italiana, quelli sono i partiti che la sostengono, quelle sono le litigiosità e anche la riforma elettorale, perdonatemi, se Renzi è uno dei protagonisti di questa riforma elettorale, lo sbarramento al 5%, non ci sarà mai, questo è evidente, è tutto un frutto di piccoli compromessi al ribasso che ci hanno portato fino a qui. Ora io dico, sono due mesi che viviamo questa crisi e probabilmente anche di più, avremmo già votato a quest'ora probabilmente, non si capisce perché si può fare una crisi di governo, non si può fare una campagna elettorale. Fatemi chiedere rapidissimamente ad Andrea Fontana, nella comunicazione in questa fase il centrodestra che sta facendo errori, se dal suo punto di vista sì, no, quali? Ma io metto dentro un po' tutti perché non ci sono storie di futuro in questo momento e quindi abbiamo tutti bisogno di riconquistare il nostro futuro nonostante la grande crisi e anzi, più ho una visione di futuro più riesco a reggerla meglio, quindi suggerirei a tutti di riconquistare il futuro. Voglio farvi vedere di Andrea Fontana in chiusura questo nuovo libro, credo per Epli, Storytelling d'impresa, la nuova guida definitiva verso lo storymaking. Cos'è lo storymaking? Il fatto proprio quello di cui stiamo parlando è che citava anche poco fa De Manzoni, cioè se io ho un comportamento, un'azione nel mondo, anche politica, poi devo avere coerenza nel mio racconto, nella mia comunicazione e viceversa, perché oggi comunicazione e azione vanno di pari passo e se non sono coerente in entrambi i casi rompo quel ciclo delle promesse che distrugge poi la mia credibilità ma soprattutto la fiducia di cittadini, consumatori e persone che vogliono credere o comunque seguire una direzione in un momento grave come quello che stiamo attraversando. Carlo Pucca, domanda, lo diceva bene il professor Ainis, sembra più una verifica quella che sta portando avanti Fico, mi chiedo ma se in tanti mesi questa verifica non è stata fatta, come può in una giornata farla il Presidente della Camera e poi domani dovrà andare in qualche modo da Mattarella e dire o chiede altro tempo, non lo so, perché poi la variabile tempo è decisiva in questa fase. Ma non c'è altro tempo, la verità è che il tempo è scaduto, quindi domani bisogna o dentro fuori diciamo, questo è il punto vero. Ho detto fuori anche con il nome già di chi sarà il futuro Premier? Io penso di sì anche se devo dirti, io ho seri dubbi che il nome di Draghi sia autentico, cioè credo che sia stato messo in circolo, a proposito di storytelling, sia stato messo in circolo proprio per indebolire Conte e cercare di dare un'alternativa immaginifica, non che non ci sia un'alternativa, in democrazia c'è sempre un'alternativa. Penso sia difficile che Draghi possa prendersi questa rogna. Intanto dono una notizia per l'arrivata dalla riunione, dal tavolone in corso alla Camera, Fico ha lasciato la Sala della Lupa dove ha introdotto questo riunione del tavolo di lavoro, la riunione sta proseguendo, forse ha fatto un'introduzione e adesso ha detto scannatevi. Adesso confrontatevi voi in maniera concreta. Mirta, buona settimana, buongiorno caro Mirta. Ciao, non si è capito bene, Conte non c'è, Fico non c'è, chissà chi lo fa a sto tavolo del programma. Io nel frattempo ho rispolverato il contratto di governo, perché qua mi pare che i contratti a volte ritornano, nel frattempo noi saremo collegati ovviamente con Montecitorio, vi daremo notizia di questa riunione complicata in cui non girano nomi, perché è volgarissimo parlare di nomi, si parla solo di contenuti. Molti ospiti con noi, Minzolini, Giannini, Massimo Giannini Augusto, Augusto Minzolini, Luciano Fontana, Lorenzo Fioramonti, lo ricordate il ministro che si dimise dal Conte Bis, molti collegamenti dai palazzi e la politica, Matteo Bassetti per capire il tema vaccini che ci sta a cuore, compreso lo scandalo dei furbetti del vaccino, Luca Ricolfi, Ettore Rosato, Italia Viva, Jacopo Fo, Pierferdinando Casini, un uomo che la sa lunga, e poi Carlo Cottrelli che potrebbe essere ancora una volta la carta coperta. Mirta, vi aspetto. Anche se lui no, ha smentito questi giorni. Lui smentisce, ma non si può mai sapere. Certo, grazie Mirta, chiudo dicendo una cosa, abbiamo parlato di molte cose e abbiamo dimenticato due fatti di grandezza internazionale, c'è stato un colpo di Stato nell'ex Birmania in Myanmar, è stata arrestata a San Siu dalle forze armate, ovviamente lei e molte altre persone, c'è la condanna unanime da parte delle Nazioni Unite e dell'Europa, la giunta, i militari che hanno operato il colpo di Stato hanno fatto sapere però che vogliono indire nuove elezioni libere e regolari alla fine dello stato di emergenza che durerà un anno. E poi in Russia continuano gli arresti degli oppositori, è andata in galera la moglie di Navalny, poi è stata scarcerata, ci sono state molte proteste, un fine settimana terribile e poco fa anche la notizia che la pena sospesa a Navalny potrebbe combutarsi in una pena reale e il principale oppositore di Putin rischia tre anni e passa di galera. Ecco, tanto per ricordarci che esistono i grandi fatti internazionali e la politica estera, ma noi in questo momento siamo concentrati in altro. In quei paesi c'è una domanda di democrazia, in Italia forse sarebbe un'immagine che c'è un eccesso di democrazia, guarda, in alcuni casi. Grazie Carlo Luca, grazie molto, una puntata intera ci vorrebbe per questo, grazie a Professor Crepe, grazie a Massimo De Manzoni, grazie a Andrea Fontana, grazie a Professor Ainis, ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete. Grazie a tutti, grazie a tutti.